Ciao amici Accordiani, oggi volevo farvi vedere un altro dei miei armamenti per fare le serate a chitarre voce, io uso spesso un delay in questo caso è un delay proprio da poche decine di euro che però mi dà la possibilità di cambiare completamente il volto alle canzoni adesso vi farò vedere qualche esempio ok, iniziamo il delay poi se vogliamo aggiungiamo un putron per dare la banda di un quarto in questo caso è un po' di un po' di un'altra Su molte canzoni degli U2, chiaramente uso l'idea che sono da solo, per esempio... Questa rimanerebbe troppo statica, invece con un delay, eccetera eccetera, oppure sulla più famosa... Praticamente mi aiuta sempre a completare allungandomi il suono e quindi posso ritmare... ...fino ad arrivare poi a degli eccessi. Poi si può utilizzare il delay, a me capita in alcune canzoni dove l'utilizzo è proprio quasi all'eccesso. Per esempio su The Wall dove l'utilizzo è... Per esempio quando si fa l'elicottero alla fine... Perfetto. Oppure su delle canzoni di Prince tipo Sign of a Time dove senza delay la canzone verrebbe così... E con il delay invece viene così... E la possibilità poi di avere il delay è che poi togliendolo posso fare... E la possibilità di fare... L'ultima cosa è appunto sul delay usato su delle canzoni molto lente... Dove da anche l'atmosfera diversa... Onde viene in mente Time After Time dove... Invece con il delay... Invece con il delay... Così... E la possibilità di fare... Invece con il delay... E... Invece con il delay... Grazie a tutti.